La seconda scheda riguarda Ballarò, i risultati della votazione sono i seguenti. Ballarato. C'è Dani? Sì. Il risultato è Cuscina Solidale. Lo straordinario contributo di una grande azienda mondiale come Airbnb al processo di regolazione urbana già in corso con coinvolgimento pubblico privato, residenti e amministrazione comunale in tanti quartiere della città. Airbnb ha deciso di sperimentare a Palermo un'esperienza unica al mondo che non si verifica né a Roma né a Tokyo né a Los Angeles di accompagnamento di un percorso di cambiamento culturale per il quale oggi Palermo è diventato un punto di riferimento che produce anche attrazione turistica. Abbiamo proceduto secondo un sistema di partecipazione da parte dei residenti e degli interessati, a segno di questo con una votazione online si sono scelti i progetti meritevoli di finanziamento. Il finanziamento non è dell'amministrazione comunale ma è un finanziamento messo a disposizione da Airbnb che ha devoluto a questo tipo di attività a Palermo e soltanto a Palermo le risorse che ha incassato come utile di azienda nella gestione del sistema di prenotazione in internet. Da questo punto di vista credo che sia una ragione per dire grazie ad Airbnb per l'attenzione nei confronti di Palermo per avere saputo vedere quello che a Palermo sta accadendo, c'è un grande processo di cambiamento culturale e di riappropriazione della città da parte dei cittadini con l'aiuto e il sostegno dell'amministrazione comunale.